E' stata abbattuta la palazzina dell'ex Edazio in Piazzale Cinelli. Il rudere di fronte all'ingresso dell'ospedale San Salvatore è stato demolito in un piano di riqualificazione urbanistica voluto dal Comune ma contestato nei mesi scorsi dal Consiglio di Quartiere Centro Storico e da esponenti della Lega, fra cui Giovanni Dall'Aste e Francesco Totaro, che avevano criticato la scelta di un'operazione che porterà via altri parcheggi in un'area fra ospedale, centro storico e stazione ferroviaria dove la sosta non è certo abbondante. Una dozzina gli stalli che verrebbero a mancare secondo la Lega, la metà quelli che verranno sottratti secondo l'assessore comunale Riccardo Pozzi in un'operazione che nasce dalla permuta di un edificio a Trebbia Antico che trasformerà la destinazione d'uso dell'area pubblica di Piazzale Cinelli in una palazzina residenziale con sei appartamenti ma anche un piccolo tratto di pista ciclabile che proseguirà il tratto già esistente proveniente da Porta Rimini.